Bellissimo sole, temperatura ideale per allenarsi, bellissimo sole che rischia anche di diventare un po' una casualità qui ad Appiano Gentile come in tutto il Nord Italia perché è attesa veramente una serie di giornate brutte con tanta pioggia. E allora, lavoro oggi per quanto riguarda la squadra, quelli che hanno giocato, come al solito, defaticante per loro, quindi un lavoro di smaltimento delle tossine e per gli altri una vera e propria seduta di allenamento. Mentre alle nostre spalle finisce il proprio lavoro la primavera di Mr. Bernazzani, noi possiamo concentrarci sulla prima squadra con tutte le immagini esclusive che abbiamo relative appunto a Stramaccioni e i suoi. Allora, intenso, dicevamo, per chi non ha giocato, quindi come sempre dopo la partita ci si è divisi in due, tra coloro i quali hanno interpretato il match a titolare e quelli che invece il campo non l'hanno visto. Stiramento all'aduttore, questa è la notizia più negativa, la diamo noi, più negativa relativa a Samuel, stiramento all'aduttore della gamba destra e comunque sarebbe stato indisponibile, precisa giustamente, il nostro sito per squalificare la gara in programma Udine sabato sera. E poi, prima doppia seduta di recupero agonistico per Snyder che ha lavorato anche dal punto di vista individuale, dal punto di vista specifico. E poi ancora programma individuale per Maicon, terapia e fisioterapia per Castegnos, con la prima squadra si sono allenati i portieri di Gennaro, delle vedove, dalle vedove, e poi il centrocampista Duncan e poi l'attaccante Livaia. Chi più, chi meno, sono abbastanza abituati a lavorare con la prima squadra di Mister Stramaccioni. Per quanto riguarda domani, vi ricordiamo l'inizio alle ore 13 diretta su Inter Channel della conferenza stampa del Mister, perché siamo già a vigilia domani, sembra incredibile, ma è già arrivata un'altra vigilia di campionato con la difficilissima, peraltro, gara di Udine. Quindi, televisori accesi, se ne avrete tempo e voglia, Inter Channel, ore 13, la conferenza stampa di Mister Stramaccioni. Per tutte le notizie sportive, canale 232, piattaforma Sky oppure YouTube, sottoscrivete la vostra partecipazione per avere tutte le ultime novità dall'unico canale ufficiale di Casa Nerazzurra.